Per i residenti, soprattutto quelli più anziani di Iesi e della Valle Sina, è il vecchio sanatorio. Stiamo parlando dell'ospedale Murri, qui a Iesi, del vecchio Murri, una struttura ospedaliera dove venivano curati i malati di TBC. Una delle tante strutture, perché in tutta Italia, soprattutto nell'epoca del cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, ne furono costruiti tantissimi. Adesso ci si chiede come poterlo riqualificare. Attualmente ospita alcuni uffici e strutture riabilitative che completano i servizi dell'ospedale Carlo Urbani, che sorge proprio ai suoi piedi, ma il suo stato di manutenzione e conservazione è pessimo, soprattutto ai piani superiori. La riflessione sul suo futuro è stata fatta in occasione dei suoi 80 anni di costruzione. Allora, come dicevamo, era stato costruito dall'Inps, come tanti altri in Italia, per assistere gli ammalati di tubercolosi o malattie dell'apparato respiratorio. Tutti uguali in tutta Italia, tutti collocati in posizione strategica, fuori dai centri abitati, in mezzo al verde. Adesso, invece, il vecchio sanatorio degli Esi, questo è il nome popolare con cui è ed era conosciuto, si trova in mezzo ad un nuovo quartiere, dicevamo, in stretta ma non completa sinergia con l'ospedale Carlo Urbani. Ecco allora che il nostro comio è un passato illustre da non dimenticare, ma anche un presente molto attivo e soprattutto potrebbe avere un futuro importante. Una riqualificazione con investimento sostanzioso, ma non impossibile, che aumenterebbe le funzioni di tipo assistenziale del vecchio ospedale riqualificato. Una sorta di ammortizzatore assistenziale per i malati cronici, allo stesso tempo complementare alle emergenze trattate dal Carlo Urbani. Si potrebbe avere dunque quella cittadella della salute di cui tanto si parla, due strutture adiacenti che comunicano in armonia per il bene del paziente, risparmiando anche in termini di sicurezza, comodità, costi. Fin qui il progetto? Difficile comunque, siamo sinceri, trovare una sua realizzazione. Intanto però il compleanno del muro è stato celebrato nel migliore dei modi, guardando al suo futuro.